È fantastico, è un sogno che si avvera. Appena mi hanno chiamato e mi hanno detto puoi giocare? Sì, subito ho detto di sì. Ci ho pensato due volte, è veramente fantastico indossare la maglia della Juve. Grazie a tutti. All'altra parte, c'è la canta di Chiesa, Chiesa punta la porta, Chiesa! Chiesa! Federico Chiesa! La Juventus è in vantaggio! Minutro per 17, è corto il secondo tempo, la doppietta di Federico Chiesa, 2 a 1, torniamo avanti! Ancora con Federico Chiesa! In avanti con Alessandro Valeria di fondo, con la schiepante, colpa di testa e la vende! Ha segnato la Juventus! Morata ti propone, la riceve ancora al centro! Arriva il gol della Juve! Ha segnato Chiesa! Il pallone, il duello con Benicovich Savic, ancora Chiesa, danza sul pallone, Chiesa! 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 Ma cosa ha fatto Chiesa? E che risposta reina! Pazzesco! Pazzesco! Sei Mariano! La nãochina ha fatto Chiesa! Dimitri con la Chiesa! Perosangente! Grazie a tutti. Chiesa visto il servito, Chiesa 1 contro 1, se la sposta per calciare, poi calcia! Praticamente la prima giocata della sua partita, è una giocata da fuoriclasse, 1 a 0 per la Juve, Federico Chiesa al 29. Un po' di campo per andare, occhio alla giocata verticale, il movimento verso Chiesa, Chiesa per il 2 a 0 Juve, sul blitz della squadra di Pirlo, Chiesa freddissimo sotto porta. E perdono di vana, di vana con il tacco per Chiesa, adizione, Chiesa alla Juve, tu sei vantaggio! Minuto numero 18, Federico Chiesa, gol stupendo della formazione di Acconera! Castorzio, arriva la piove del cross, dall'altra parte Chiesa, trova l'angolo, un gol importantissimo di Chiesa, un lampo della Juve!